Novena Santa Teresa d'Avila si recita per nove giorni consecutivi, particolarmente dal 6 al 14 ottobre. Primo giorno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amabilissimo Gesù che prevenisse così per tempo la serafica Vergine Santa Teresa con le vostre più elette benedizioni che fin dai più teneri anni, portanto altamente scolpita nell'animo la memoria della interminabile eternità, andava sovente esclamando «Dunque, o per sempre beata, o infelice per sempre!» Te, per i meriti di Sigran Santa, siate liberale anche con noi delle vostre grazie e fate che l'importante riflesso dell'eternità occupi mai sempre i nostri pensieri e ci si diregola in tutto il nostro operare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, che Teresa feriste il bel cuore, con dardo d'amore ferite ancor me. Orazione a Santa Teresa O Zerafina amatissima del Crucifisso, mia gloriosa Avvocata Santa Teresa, ecco, a vostri piedi un'anima che più d'ogni altra ha bisogno del vostro patrocinio, perché più d'ogni altra carica di imperfezioni e di miserie. Quel desiderio così ardente che voi aveste qui in terra della salute dei peccatori, ben l'avrete ancora su in cielo, per ottenermi dalla Divina Misericordia un vero pentimento delle mie colpe ed una ferma risoluzione di non pecare mai più. Dei impetrate, vi prego, al freddo mio cuore una scintilla sola, di quell'amor fervidissimo, per cui meritaste dal vostro Dio di essere chiamata sua sposa, impetrato, una sincera emendazione di costumi, e una costante perseveranza in ogni maniera di buone opere, onde, contrariando mai sempre tutti quei bassi appetiti che mi inclinano alle cose transitori di questa terra, non abbia mai altri affetti che per amar qua giù il sommo bene, con la consolante speranza di goder poi in eterno insieme con voi nel Paradiso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.